Capitano Luca Lo Sito Capitano la finale l'avete persa, la storia l'avete fatta comunque Le sensazioni a caldo? La storia l'abbiamo fatta, l'abbiamo fatta come dicevo ieri arrivando qui E oggi poteva arrivare il mito, la leggenda Dopo la storia che si poteva fare, quello Purtroppo non ci siamo riusciti, loro sono una squadra fortissima Lo sapevamo già dall'inizio, sono regati in fondo ai playoff, in fondo a tutto Quindi sarebbe stata un'impresa, però come al solito quando perdi una finale c'è un po' di rammarico Ma grazie a tutti Lei ha parlato di rammarico Capitano, ma le chiedo c'era qualcosa in più che si poteva fare Perché questa finale andasse diversamente? No, abbiamo fatto tutto quello che si poteva fare Abbiamo dato tutto, dal primo all'ultimo in rosa, dal primo all'ultimo in società E quindi per quest'anno era il massimo che potevamo raggiungere Forse abbiamo alzato ancora di più l'asticella per raggiungere obiettivi che a inizio anno nemmeno ci immaginavamo Quindi la risposta è no, abbiamo dato tutto, abbiamo dato il fritto, chi stirato, chi con una caviglia gonfia Abbiamo dato davvero tutti Colgo l'occasione per ringraziare tutti, diciamo, in questi dieci anni della Lositane che hanno contribuito Perché questa è, diciamo, è l'ultima pagina scritta oggi, ma c'è un futuro ancora da scrivere È l'ultima pagina, ma è un libro che hanno iniziato a scrivere, che abbiamo iniziato a scrivere dieci anni fa Con tutti quelli che hanno fondato questa società nel 2014 Che adesso non sto a citare tutti, ma che ieri erano tutti qui, che oggi alcuni erano qui E quindi è questa, la Lositane è questa e testa al prossimo anno Perfetto capitano, io ti ringrazio come sempre e buona fortuna per tutti Grazie a te, grazie a voi